ecco marco in combattimento con un'amur con canna da tremarella siamo il 22 di novembre 2010 un carbonide siamo sempre al lago di appignano del tronto la fenice chi vi parla è il grande pescatore egno niente non si vede ancora allora inquadriamo marco sotto sforzo ecco la carpa che si intravvista è una carpa reggina non è l'amur si vede non si vede non si vede ancora punta ancora verso il basso eccola che si era vista adesso eccola alla fine se ne è andata tanto ti sei divertito no no come no ma tanto non la potete c'hai paura più per la canna alla prossima no no bella carta il carbonzio buonissimo buonissimo